Intanto noi con le immagini arriviamo subito a vederci i secondi 45 minuti di gioco e da ricordare che Riccione in virtù di una classifica migliore rispetto al Castel San Pietro potrebbe perdere per 2-1 anche per 3-2 ma sarebbe sempre il Riccione a rimanere in serie ed dunque alla squadra del Castel San Pietro serve davvero una vittoria importante con almeno due gol di scarto. Intanto gioco fermo, calcio di punizione ancora una volta in favore degli ospiti molto più reattivi in questa seconda fase di gioco, ecco il calcio di punizione in aria, esce male Bertozzi, cade a terra il numero 9 PC e sbaglia tutto Bertozzi, sarà bianca con i propri compagni di squadra ma non è successo nulla, la palla ovviamente è finita fuori. 71esimo minuto ancora il Castel San Pietro che viene in avanti, vediamo sul pallone il numero 8 Braconi, ecco Braconi pronto a battere il calcio di punizione, la deviazione da parte di Bertozzi, deviazione providenziale, ancora una palla che danza al limite dell'aria di rigore, il pallone viene ancora controllato comunque dal Castel San Pietro che viene subito in avanti. Vediamo Campo, il processo della sfera, c'è un contrasto, palla che finisce fuori, ma noi ci rivediamo al replay di quello che è successo, ecco il calcio di punizione con la deviazione providenziale da parte di Bertozzi che in questo frangente salva davvero il risultato. Poi rimedia tutto Pentucci che finisce il pallone fuori, da ricordare che al 65esimo è stato espulso l'allenatore ospite Lorenzo per proteste, dunque Giuseppe Lorenzo ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco per proteste, la squadra ospite gioca senza l'allenatore in panchina. Vi ricordo il risultato, Riccione 1, Castel San Pietro 1, si vede adesso anche Riccione, c'è questo passaggio incredibile per il numero 10, Mazzoli arriva al gol, il gol del 2-1, Mazzoli era solo, difesa un po' disattenta da parte del Castel San Pietro, gol importantissimo per il Riccione, un gol che potrebbe significare la salvezza per la squadra di casa. Vedete l'entusiasmo della curva riccionese per questo gol fondamentale segnato da Mazzoli che è il numero 10, vi vediamo quello che è successo, il pallone è per Domini, vedete Domini che controlla bene la sfera, si gira, cerca l'appoggio con un proprio compagno di squadra che è Stefanelli, Stefanelli l'appoggio veramente incredibile per Mazzoli, qualcuno reclama il fuori gioco, l'albitro dice di no e concede il gol al Riccione. Riccione 2, Castel San Pietro 1, dunque Riccione con quasi tutti i due piedi nel campionato di Serie D, vediamo ancora un contrasto, la palla è recuperata dal Riccione con Domini che si gira, l'appoggio per Moritti, ancora un lungo pallone, stiglia davanti per Stefanelli che cerca di controllarlo, ovviamente di perdere anche un po' di tempo. Ancora Stefanelli di questo bel passaggio per Casola, ancora Casola, entra in linea di vigore Casola, cerca di arrivare al tiro, palla insidiosissima, si lamenta un compagno di squadra di Casola per un passaggio sicuramente sbagliato, ma non è successo nulla. L'ottantesimo minuto, Riccione 1, Castel San Pietro 1 e il Castel San Pietro ovviamente che viene in avanti, sono minuti concitati, sono i minuti di questo spareggio. Questa è la partita di ritorno dei play-out di Serie D, vediamo ancora un contrasto, la palla non è finita fuori, c'è il rinvio, vediamo cosa decide l'arbitro che concede l'out a beneficio del Castel San Pietro. Il calcio d'angolo che viene prontamente battuto, ancora un pallone per Braconi, pal in aria, arriva anche il gol, gol importante di Saltoni, il gol del 2-2 che riapre ancora la partita, mancano circa 10 minuti al fine dell'incontro, li vediamo il gol, si tuffa di testa Saltoni e porta il Castel San Pietro al pareggio, dunque Riccione 2, Castel San Pietro 2, 95esimo minuto, si attende con trepidazione il fischio finale che arriva proprio adesso, dunque a Riccione, Riccione e Castel San Pietro impattano per 2-2. In virtù di questo risultato il Riccione rimane in Serie D ed il Castel San Pietro retrocede mestamente nel campionato di eccellenza, dunque tutti contenti e soddisfatti di Riccione, c'è entusiasmo da parte dei sostenitori della curva ricionese, vedete l'abbraccio dei sostenitori ai giocatori bianca-azzurri per questo pareggio molto importante che significa la salvezza, la permanenza in Serie D. Grazie